Allora signorina stavamo dicendo noi siamo molto social Siete molto social per cui vi serviranno tanti Siete scusi ma lo sai che mio nonno è morto a 94 anni? Perché? Perché si faceva i cassi social Sono molto social Che c'entra è per aiutarti? Ma che c'entra è per aiutarti? Ma non aiutare? Va bene Noi siamo molto social Con per i mobile abbiamo un'altra limited edition Per chi sta molto online Con 220 giga a minuto Mamma mia scelta A 9,99 euro Ma ora mi serve questa E questa è per il classico social Per l'Ibru Anso Sicuramente vantaggiosa Ma non rientra qua Per il 5 c'è il 6, il 7, l'8, il 9 Che cosa cambia? Sembra giga a sogno Sempre giga a sogno Vabbè facciamo una cosa Ascoltami a me Allora adesso io chiudo il video Ne aprirò subito un altro Istruiamo la signorina su chi siamo noi E poi ci facciamo fare delle offerte dedicate e vantaggiose solo a noi e ai nostri follower C'entra Facciamo fare delle offerte per noi e per i nostri follower Signore o signorina? Ah signore Lei signorina Ah signorina Vabbè ragazzi a tra poco che vi faccio fare lo sconto anche a tutti i follower che vengono qua In via Firenze Quello non ci piove In via Firenze numero? 104 A spalle del tribunale Alle spalle del tribunale Scetto Oh sì? Vattacco Prima vatti a causa Poi vedi di casa Non vanno attaccati Vieni da casa Ah va Di scetto A tra poco ragazzi A tra poco con le offerte dedicate a noi e a voi Scetto A tra poco Il tempo che il conte convince la signora Signora Scetto Signorinella Scetto